si inizia proprio davanti qui alla chiesa di san giro questo video comunque ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video si oggi arriva la prima giornata oggi è la prima giornata di campionato tra virtù san ferdinando e lucera è una partita molto importante perché oggi è la prima di di campionato e quindi devo fare assolutamente bella figura niente adesso adesso si va a foggia e poi si va direttamente a san ferdinando di puglia sempre forza lucera ciao ragazzi comunque ormai generalizzano dai 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 però è che cazzo che cazzo è presente fisicamente ma c'è sì quello di primo non mi ha perso no no ma anche un altro gioco la mia buce la mia la mia bravo 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 10 generi da meglio Tu agili da qua, ti vanno a mettere bene Dai dai, dai! Nooooooooooo! taglia 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 la taglia la linea è quella prima di mano però faccio in carano a bastezza forse forse dai vai che buona vai che buona dai 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 va bene ragazzi io sono appena tornato a casa e fa male fa male fa male perdere così perché comunque secondo me oggi il pareggio ci stava assolutamente comunque è una vittoria diciamo immeritata del San Ferdinando però comunque se hanno vinto c'è sicuramente un motivo che dire abbiamo fatto un brutto primo tempo veramente un brutto primo tempo dove abbiamo concesso tanto al San Ferdinando comunque diciamo che è tolto il rigore e il salvataggio anche sulla linea diciamo che non ha combinato tantissimo poi nel secondo tempo invece abbiamo dominato noi perché comunque non ricordo un tiro del San Ferdinando nel secondo tempo perché comunque abbiamo stradominato e giocato a calcio appunto sempre nel secondo tempo però però siamo stati sfortunati e poco concreti perché comunque quando un Pio Salvatore risbaglia un gol incredibile a porta vuota ecco c'è c'è proprio del rammarico perché comunque a me anche dispiace per Pio ha sbagliato un gol clamoroso a porta vuota dopo un'azione bellissima poi vabbè non parliamo anche dell'arbitraggio perché c'era un rigore per noi che vedrete sicuramente nella reaction anzi che avete visto appunto la reaction un rigore per noi un fallo netto su di Cagno se non sbaglio poi in un'azione bellissima ad un triangolare che manco il Napoli di Sari dei migliori tempi un triangolare bellissimo e poi l'arbitro che finisca fuori gioco veramente cioè ogni anno se ne vedo sempre di tutti i colori sempre di tutti i colori ma poi ne riparleremo bene nell'unità di Lucerino che appunto vedrete anzi che avete già visto ieri e vabbè comunque che dire siamo stati sfortunati e poco concreti perché comunque bisogna bisogna essere più freddi bisogna essere più freddi negli ultimi metri però comunque bisogna ripartire dal secondo tempo di questa partita comunque abbiamo giocato a calcio abbiamo giocato a calcio ci siamo ripresi diciamo dall'emozione della prima partita in questo campionato e niente adesso testa domenica prossima dove si affronterà la Virtus Palese e niente ci vediamo ci vediamo lunedì con il prossimo lunedì lucerino di Lucera contro Virtus Palese oltre alla sconfitta sempre forza Lucera ciao ragazzi